Omero Omero nasce nell'88, sono calze di alta qualità, rigorosamente made in Italy, quindi filati esclusivi di durata eccezionale. Omero è speciale perché viene confezionato a mano, quindi c'è un controllo qualità impressionante. Sono quasi come se fossero dei prodotti artizianali. La ricerca delle nuove tecnologie, dei nuovi filati è ovvio che è importantissimo. In questo sicuramente la Lycra ci viene incontro, proponendoci anche loro dei prodotti come può essere la Lycra Fusion, che è nata ultimamente e questo ci ha aiutato. Donna Omero è sicuramente intraprendente, attiva, sa quello che vuole, vuole la qualità del prodotto, magari anche pagando qualcosina in più, se lo cerca nel negozio specializzato, che sa anche dare consigli. E una donna veramente forte, indipendente, è una donna che sa quello che vuole e vuole le cose belle. Grazie a tutti. Grazie a tutti.